Cosa stiamo preparando oggi? Ora prepariamo un antipasto caldo in questo balù, un antipasto degustazione composto da una crema di topinambur, ragù di coniglio, carri graffinati e topinambur colto al forno. Ci aiuteremo, questo è un piccolo trucco, a non sporcare le pareti del bicchiere. Ah, un bicchiere di plastica bucato, tagliato il fondo in modo da non sporcare le pareti. Andiamo a mettere la crema, la crema di topinambur, al forno, sistemiamo il topinambur cotti al forno, si cuociono come delle patate. Sistemiamo il ragù coniglio, che è stato passato in padella con cosa? Questo ragù è brasato con delle verdure e del sugo di coniglio. E poi, infine, mettiamo sopra i carri graffinati. Così avremo le due consistenze del topinambur, in crema, al forno e sopra i carri. E poi finiremo con un goccino di sugo d'arrosto. Per dare un po' di sabidità in più. Togliamo il finto bicchiere. Togliamo il finto bicchiere. Così che le pareti rimangono tutte. E questo piatto è stato preparato da? Stefano Boro, Ristorante Voto Rivo.